glass beach si trova nella località di fort bragg nel nord della california quindi nelle spiagge del nord della california ok ci siamo spostati da glass beach e siamo arrivati in questo forco qua e la cosa interessante è stato un piccolo aeroporto fino al 2002 quindi questa che vedete qua è appunto la pista d'atterraggio e qua c'è tutta l'esplorazione del parco con i vari sentieri lungo la costa wow 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 oh 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 i si color e questo è un black seal o il black seal o il black seal Ok, questo hotel decisamente meritava un video perché siamo finiti nei assoluti più pacchiani anni Ottanta, come potete vedere, guardate la cornicina sopra, il vaso, la lampada Art Nouveau e appunto guardate com'è la spalliera del letto. E guardate cosa ho trovato in questo parco cittadino, non lontano. Questa è una sezione di un albero che è caduto nella foresta qui nella contea di Medicina in North California e sì, è la sezione di un tronco d'albero che è caduto appunto nel 43, poi il tronco è stato tagliato in sezioni e portato in diversi luoghi, eccolo qua, e si stima che sia vecchio più di 1700 anni. Buongiorno, ultima tappa prima di tornare a casa, siamo a Pomo Bluff Park, appunto... So, siamo stati a Noio Park, che è esattamente lì di fronte a noi, abbiamo fatto tutta quella camminata e siamo arrivati fino in fondo, in fondo, in fondo, dove vedete quella cunetta là, che appunto era la montagnetta dove siamo saliti. Siamo sulla scogliera, eccoci qua. Grazie a tutti per aver guardato questo spazio, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Come sempre, grazie mille per guardare i miei video, aspetto likes e commenti. Se non avete visto il primo video sulla parte riguardante Glass Beach, lo potete appunto trovare qui. Grazie ancora per seguirmi, iscrivetemi al mio canale Caffè Cappuccini, ciao ciao!